Allora, quale sarà la versione di Go in Sardinia? Chi sarà qua con noi e se ci sarà a dare delle risposte? Vediamolo subito. Allora, noi lo ringraziamo. Buongiorno, benvenuto. Facciamo sedere Antonio Taras, che fa parte del consorzio Go in Sardinia. Sardinia, davvero grazie perché metterci la faccia è una cosa importante. Ma ci colleghiamo anche con Cagliari per dare il buongiorno all'assessore dei trasporti della Sardinia, Massimo Deiana. Buongiorno, assessore. Buongiorno. Come sta? Bene, bene. Tutto a posto? Anche se sentire queste notizie non è particolarmente... E che mica l'avrà sentita oggi per la prima volta, immagino, no? No, no, assolutamente, però anche semplicemente ricordarle non è sicuramente positivo, almeno dal punto di vista dell'umore. Beh, noi facciamo il nostro mestiere, lei che fa già? Come dire, io tanto non c'entro nulla, no? No, no, noi siamo particolarmente coinvolti, siamo anche noi... Adesso lo vediamo se siete... ...per altri versi una parte lesa. Ah, voi siete della parte lesa. Adesso arriviamo, assessore. Allora, si è capito, avvocato, quanti sono i passeggeri coinvolti? Un conto, l'avete fatto? Che noi ne abbiamo due, ma... Noi abbiamo una stima di... Tre, anzi, con Ciro. ...di 20.000, ed è per questo che anche come Movimento Consumatore abbiamo già rivolto una richiesta, che adesso io voglio ripetere pubblicamente, di incontrare la compagnia per mettere in piedi un tavolo, per discutere le posizioni per risarcire, anche le situazioni particolarmente critiche, che meritano particolare tutela, come la storia che abbiamo sentito prima, attraverso una procedura paritetica di conciliazione. A oggi non abbiamo ancora avuto una risposta da parte della compagnia. Parliamo di tutti, tutti sono parte lesa. Assolutamente. Assolutamente. Allora, Taras, quanti soci siete? Siamo 200 aziende consorziate. Devo dire siete o eravate? Siamo, a Goi Sardinia esiste ancora, non è fallita, ci stiamo riorganizzando per il prossimo anno. Aspetti, aspetti, vi siete riorganizzando per il prossimo anno senza aver risarcito ancora questi 20.000. No, no, ma la nostra attenzione è di risarcire tutti. Eh? Tutti. Quando? No, noi non abbiamo mai lasciato nessuno a terra, compreso l'anno scorso. Mentre invece, allora, ci sono un po' di cose da chiarire. E chiariamole. Allora, ho sentito parlare anche la signora lì da Milano per quanto riguarda il camping on board. Allora, noi con l'ANEC abbiamo firmato un contratto. L'ANEC, ricordiamolo, è la compagnia. È la compagnia che ci ha noleggiato la nave. Noi non siamo armatori, noi siamo un tour operator, abbiamo noleggiato la nave dall'ANEC. Che si discolpa, dice, noi non c'entriamo assolutamente nulla, le responsabilità sono, dico, in Sardinia. Vabbè, comunque... È sempre il solito rimpallo, no? L'assessore ha già detto siamo parte l'ESA. Il fatto è comunque che tre navi che ci hanno dato, tre navi che si sono rotte. Questa l'anno scorso, con la Criti, e abbiamo riprotetto tutti. Ho sentito la signora che l'anno scorso ha viaggiato bene e ha riviaggiato con noi. L'anno scorso è rimasta l'isola bianca. Premetto che noi siamo nati per risollevare il turismo che nel... Indubbiamente eravate una bella opportunità. Per chi voleva viaggiare, perché i vostri prezzi erano assolutamente concorrenziali rispetto agli altri. Abbiamo sentito i prezzi che abbiamo fatto noi, poi abbiamo visto i prezzi con cui, purtroppo, i passeggeri sono dovuti ritornare. Quindi noi siamo dalla parte vostra. Noi capiamo le vostre esigenze. Allora, premetto anche un'altra cosa. Posso dire una cosa? Mi scusi, dottore. Non è che lei può cercare di sedersi qui dalla parte di questi signori. Allora, noi qui abbiamo, grazie al cielo, delle certezze. E la prima certezza è che voi, nei loro confronti, siete responsabili. L'unico interlocutore di questi signori è la vostra compagnia di navigazione, perché ha comprato un biglietto con voi e quindi voi dovevate erogare un servizio. Quindi non ci giriamo molto intorno. Il fatto che la vostra compagnia dica colpa di una... Mi faccia finire, per cortesia, il fatto che lei dica noi abbiamo preso le navi a... A questi signori non interessa affatto. Siete voi gli unici responsabili. E voi dovreste fare due conti con l'Ane Kleinz e intanto risarcire tutti questi passeggeri. Ma la vostra intenzione deve risarcire tutti. Non è fallita? La vostra intenzione deve risarcire tutti. Non solo a tempistica. Io in questo preciso momento... E adesso ci deve dare una tempistica. Io non posso dare una tempistica perché... Ma avete fatto una riunione dei soci? Certo. E che vi siete detti in questa... Scano, l'amministratore delegato, che vi ha detto? Abbiamo visto quali sono stati i problemi... Noi l'abbiamo invitato, non è voluto venire. Abbiamo visto quali sono stati i problemi con l'Ane Kleinz. E quindi, siccome c'è un'indagine in corso... Visto che l'Ane Kleinz è greca, non è che finiamo alle calende greche poi per il risarcimento. No, noi risarciremo tutti. Io non posso dire che la tempistica... Quando, quando? Posso dare un consiglio? Valentina, può parlare anche lei? Signor Enrica, fate tutte le domande che volete. E poi io ho domande anche per l'assessore. Perché qualche passeggero è stato riprotetto e noi no? Quanti passeggeri sono stati riprotetti? Io do per certo che i passeggiari erano sulla nave del 31 di agosto. Io sono partita, il 29, partita tra virgolette sulla Firrenia, non certo con voi. Perché l'ufficio era chiuso. Voi latitanti è in massimo proprio. L'ufficio ce l'hanno imposto, ci ha imposto la polizia di chiudere gli uffici. Perché non potevano proteggere il nostro personale. Perché purtroppo si era creato... La polizia non c'era al porto di Olbia. Per quello, quindi ci hanno imposto di chiudere... La polizia ci ha imposto di chiudere le nostre biglietterie perché non potevano proteggere il nostro personale. Perché purtroppo si era creata una situazione ingestibile e quindi alcune persone hanno anche forzato i nostri uffici. E la polizia ci ha detto dovete chiudere gli uffici perché non è possibile garantire la protezione al vostro personale. Perché era un problema di sicurezza. Assessore, ma in tutto questo voi che facevate? Perché, mi scusi, ma qualcuno dice che siete un po' rimasti a guardare. Sicuramente ci può stare nell'esasperazione anche un'affermazione del genere. Noi innanzitutto abbiamo messo insieme, comandata dall'autorità portuale di Olbia, una unità di crisi che ha monitorato ora per ora, minuto per minuto, la situazione. Ma non si poteva presentare un'analisi per partire questi cittadini? Eravamo presenti anche noi a Olbia. Voglio dire che a Olbia è stata tenuta aperta la stazione marittima, è stata convocata un'unità di crisi con il prefetto di Sassari, il comandante della capitania di Olbia, unità della protezione civile allertate dalla regione, per evitare ovviamente che al disagio si aggiungessero disagi o addirittura situazioni. Ma non si poteva presentare una nave, per esempio? Dunque, da questo punto di vista qualcuno chiedeva che noi noleggiassimo una nave per riproteggerli. Innanzitutto c'erano due ordini di problemi. Primo, non è semplice il 28 di agosto trovare una nave disponibile. C'era la nave, non bisognava andare a cercare un'altra nave, bisognava bloccare quella nave, riportare la gente a casa fino al 3 di settembre. Abbia pazienza, le precettazioni le fa l'autorità di pubblica sicurezza, le fa il prefetto sulla base di determinati presupposti. Ma voi l'avete chiesta? L'avete sollecitata per aiutare questi passageri o no? Assolutamente. Però io ci tengo, perché qui bisogna precisare una questione. Qui si tratta di uno spaventoso, come ha detto il collega prima, di uno spaventoso inadempimento contrattuale. E quindi, ovviamente, di fronte a un inadempimento contrattuale che genera delle conseguenze anche di carattere sociale così gravi, perché 20.000 persone da riproteggere nell'arco di una settimana non sono sicuramente un problema di poco momento. Però in ogni caso si tratta di un inadempimento. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze, per esempio, cosa che non è stata spiegata, gli albergatori della Gallura hanno ospitato gratuitamente i passeggeri. Sappiamo che la Sardegna è terra di grande ospitalità, diamo atto agli albergatori. Lo stesso oggi hanno ospitato gratuitamente. Però lo sa che sono anche un po' arrabbiati, non un po', un po' tanto, arrabbiati con lei per i prezzi alti dei trasporti, perché poi questo non favorisce naturalmente. Ma lei ha detto una cosa molto giusta in un primo momento, cioè lei ha detto che l'iniziativa di Go in Sardegna di per sé è un'iniziativa molto interessante, che ha sicuramente creato una dinamica di mercato interessante. È un problema concorrenziale. Il problema fondamentale è che purtroppo... Assessore, mi sente? Sì, no, un attimo. Assessore, mi sente? Posso? Sì. La posso interrompere? Sì, prego. Lei ha detto una cosa giusta. Lei ha detto che è un problema di un grande inadempimento contrattuale. Io mi permetterei di... Spaventoso. Spaventoso. Ma guardi che qui ci può essere anche uno spaventoso danno d'immagine per la regione che lei rappresenta. Ed è il motivo per cui ho detto che noi siamo parte l'esa. Quindi di fronte a questo ci saremmo aspettati da parte vostra, quantomeno al momento, un'assistenza che questi signori invece dichiarano di non aver avuto. E allora forse sarebbe il caso di dire a questi signori innanzitutto una parola che è la parola magica. Scusateci. Scusateci. Lo vuol dire adesso, Assessore? Ma io assolutamente sono... Mi scuso, ma mi scuso per una colpa ovviamente non nostra, e cioè il fatto che c'è stato uno spaventoso inadempimento contrattuale che ha cagionato comunque complessivamente un danno di immagine ingentissimo alla Sardegna. Enrica da Milano voleva dire qualcosa che l'ho vista... Dopodiché, volevo dire, io ho passato i primi 15 giorni di agosto. Perché la signora ha avuto molti disagi con un figlio disabile. Prego Enrica. Ecco, io ho passato i primi 15 giorni di agosto a chiamare, telefonare, mandare mail per essere riprotetta già da subito, per essere tranquilla per il mio rientro. E anche nel mio caso, pur sapendo, perché poi sulla nave mi hanno visto, hanno visto le condizioni di mio figlio, non mi hanno riprotetto. Lei a chi lo chiedeva? Enrica, lo chiedeva a Go in Sardegna? Come? Lo chiedeva a Go in Sardegna oppure a... Sì, sì, io telefonavo a Go in Sardegna, ho chiamato, ho mandato mail, loro mi hanno detto fin da subito di farmi un nuovo biglietto. Allora, Taras, lei dice, la società non è fallita, l'AD Scano lo ha scritto, tra l'altro, anche sulla pagina di Facebook una ventina di giorni fa. Quindi quando risarcirete questi passeggeri? Diamoci un tempo, prendiamo un impegno. Perché il foro competente è quello di Londra. Senta, dottore, io gli dico una cosa, mi permetto di darle un consiglio. Questi signori, se insieme agli altri 20.000 vi fanno una class action, vi mettono in ginocchio. Quindi voi avete un'unica possibilità, risarcire al più presto, con le associazioni dei consumatori, trovando tutti gli accordi che volete, ma attenzione che se non lo fate, domani vi portano in tribunale e non so come andate a finire. Quindi prendete un impegno preciso e lei non ci può dire il foro competente, l'onda si vedrà. Lei deve venire qui a dirci, noi pagheremo e pagheremo il giorno. Allora, facciamo così. Io non ho una tempistica per dire che non ho. Senta, Taras, facciamo così. Taras. Quello che posso dire è che la nostra economia in Sardegna è proporzionale alla vostra felicità. Quindi, fin qua, no, 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 è molto importante questo aspetto, perché noi non siamo nati né per truffare, né per fare chissà cosa. Noi siamo nati, prima cosa, per combattere il caro traghetti, che è quello che ci ha... No, voi siete nati per dare un servizio a questi clienti che non l'hanno avuto. E allora che cosa fate? Risarciate questi signori oppure no? Li lasciate così? Allora, vi interrompo, senta Taras, siccome voi avete avvisato tutti questi cittadini col cellulare, mandando un messaggino, faccia così, lei mandi un messaggino al suo AD adesso, mandiamo la pubblicità, dopo la pubblicità possiamo dare una data sul risarcimento, parlatevi. C'è la pubblicità, pochi minuti. Grazie. Grazie.